Si è ripresentato sul ring sabato scorso in Piazza Cavalli nel miglior modo possibile, battendo ai punti il proprio avversario, il campano Daniele Luongo, al termine di un match vibrante e ben combattuto. Il peso massimo Ovidiu Enache, romeno d'origine ma piacentino d'adozione, unico pugile professionista della box Piacenza, è ora pronto al grande salto. L'obiettivo è lanciarsi alla conquista del titolo italiano. A me ci è andato benissimo, la preparazione è stata intensa, voglio ringraziare il mio maestro perché abbiamo fatto un bel lavoro insieme, siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi, abbiamo fatto un bel incontro. Non vedo la di tornare sul ring, voglio fare un'altra vittoria e prepararmi per un futuro titolo italiano. Ecco, il mio obiettivo è quello e speriamo di arrivarci a presto. Maestro Nicola Campanini può sicuramente essere soddisfatto, oltre che di Ovidiu, anche degli altri pugili. Sì, è stato il secondo evento, il secondo The Game di questi anni, dobbiamo ringraziare appunto la collaborazione con Giacomo Bottoni della Pro Fight in Piacenza e diciamo coaudivato tutto il lavoro con un loro ex dirigente che adesso fa parte della nostra palestra che è Carlo Malchiodi. I ragazzi hanno risposto bene, il pubblico soprattutto, visto questo momento difficile, ha risposto bene e quindi siamo contentissimi del lavoro svolto. Abbiamo già programmato una prossima riunione, molto probabilmente faremo fino a ottobre a San Giorgio, per riportare sul ring e aiutare Ovidiu a continuare nella sua attività e anche i pugili dilettanti che comunque si preparano a importanti tornei come il torneo femminile WBL per la ragazza dell'area tosca e i campionati regionali elite prima serie per Roberto Betancourt. Quindi siamo motivati a far bene.